Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Come promesso qualche settimana fa iniziamo a vedere come funziona Adobe Audition questo meraviglioso software firmato Adobe appunto pensato per editare l'audio Prima di iniziare però una piccola curiosità In origine, tanti 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 anni fa, parliamo intorno agli anni 2000 Ecco, Audition già esisteva ma non era di Adobe e non si chiamava Audition Il software si chiamava CoolEdit Ci furono varie versioni, CoolEdit 2000, CoolEdit 2 Poi arrivò Adobe e disse sai cosa? Me lo compro E all'improvviso sparì CoolEdit e nacque Audition Audition come parte integrante della suite Adobe Quindi comunica perfettamente con Premiere Ed è utilizzato nel workflow e nelle produzioni audiovisive Nello specifico per migliorare la qualità dell'audio Quindi questa è una breve curiosità ecco su questo software Come funziona e come utilizzarlo? Beh di questo noi ci occuperemo in questo corso Come già per gli altri corsi di questo canale YouTube Le prime lezioni saranno ovviamente gratuite e aperte a tutti gli iscritti a questo canale YouTube E poi da un certo punto in poi, dalla terza, quarta lezione in avanti Dovrete sottoscrivere un piccolo abbonamento di 3 euro al mese per continuare a vedere l'intero corso Alla fine sono 3 caffè al mese, non è una spesa eccessiva E ovviamente l'abbonamento a questo canale YouTube vi darà accesso non soltanto a questo corso Ma anche al corso integrale e completo di Adobe Premiere Pro e di After Effects Oltre ad altri contenuti esclusivi Quindi se non l'avete fatto abbonatevi subito cliccando nella home page di questo canale YouTube Sul bottoncino abbonati che trovate in alto a destra Oh, iniziamo Come funziona Audition? Intanto a cosa serve? Beh, come detto Audition serve per editare l'audio Quindi non è un software per fare grafica, non è un software per montare i video È un software che si concentra specificatamente nell'elaborazione del suono, dell'audio Infatti davanti a voi vedete quella che è una forma d'onda Anche se questa è una forma d'onda presa da un video Che io ho montato in Premiere Pro ed era uno dei buongiorno dei caffè del mattino di Fabio Ambrosi.it Ecco però qui avete davanti a voi quella che è la riproduzione grafica del suono Che appunto è costituita da un'onda Ora, nel corso base di Premiere Pro abbiamo parlato di che cos'è un'onda sonora Abbiamo visto alcune caratteristiche che ha il suono digitale Magari più avanti in questo corso recupereremo qualche concetto Perché ovviamente per lavorare come dei professionisti Bisogna avere bene in mente alcuni concetti Che altrimenti ci impediscono di lavorare al meglio Nello specifico con l'editing dell'audio Ma prima di addentrarci in queste tematiche un pochettino più tecniche Diamo uno sguardo all'interfaccia Adobe Audition, ricordatelo sempre, è un software Adobe E come tutti i software Adobe Utilizza i pannelli Utilizza la metafora dei pannelli Oddio, metafora Utilizza i pannelli L'organizzazione della sua interfaccia in pannelli Quindi se siete già abituati a lavorare in Photoshop In Premiere, in After Effects o in altri software Adobe Saprete già come muovervi nell'interfaccia di Audition Perché non è poi tanto differente Abbiamo dei pannelli, eccoli qui Organizzati magari in vario modo A seconda del tipo di lavoro che deve essere fatto Nella finestra, appunto finestra o Windows in inglese Abbiamo la voce spazio di lavoro E così come in Premiere o in After Effects O in Photoshop, in Illustrator Anche qui ci sono diverse aree di lavoro Diversi preset, chiamiamoli così, di interfaccia Che caricano solo i pannelli essenziali ad un determinato scopo Per esempio abbiamo il preset predefinito Che è quello che normalmente trovate quando aprite Audition per la prima volta Trovate il preset per la restaurazione del suono Quindi aprirà solo quei pannelli che sono importanti per pulire l'audio E migliorarne la qualità nel caso in cui l'audio in questione fosse disturbato E tanti altri Abbiamo anche un preset per gestire il video Nel caso in cui si debbano fare dei montaggi audio Tenendo però in considerazione anche il video che vi è associato Vale il concetto che abbiamo già visto in Premiere Aprite un predefinito qualsiasi Un'area di lavoro predefinita qualsiasi Potete crearne di nuove Ma potete ripristinare il layout salvato Vale a dire se fate delle modifiche al vostro template Per esempio trascinate una finestra e la spostate Organizzate in altre parole l'interfaccia in maniera differente Da quella che è stata precaricata Ma volete tornare poi al preset originale Basta andare in finestra Spazio di lavoro Ripristina layout salvato E tutto viene ricaricato così come era in origine Come si spostano i pannelli? Beh lo ripeto per chi non lo sapesse Basta cliccare sul nome del pannello e trascinarlo Vedete? Potete trascinarlo al lato Potete spostarlo vedete in questo caso a sinistra Lo stiamo riorganizzando O potete annidare più pannelli contemporaneamente Per esempio in questo caso vogliessi mettere questo pannello Dentro a questo pannello Ok annidarlo si dice Basta che clicco sul nome Vedete questa area azzurra che viene colorata Clicco rilascio E vedete che i tre pannelli ora sono tutti annidati Nel macro pannello principale Se volete risepararli basta prendere il pannello in oggetto Cliccare, trascinare Vedete che cambia il colore dell'area Si colora di azzurrino l'area più esterna Vedete? Rilascio Ed ecco che siamo tornati sostanzialmente come eravamo in origine Non c'è molto altro da dire sui pannelli L'ultima cosa è che tanti strumenti Tutti gli strumenti di Audition Sono organizzati appunto nei pannelli E l'elenco di tutti i pannelli sono presenti nella voce del menu finestra Quindi qui sotto finestra trovate l'elenco di tutti i pannelli Che possono essere aperti in Audition Per esempio il mixer eccolo qui Lo utilizzeremo un po' più avanti Però se volete aprire il mixer e non è aperto Ci cliccate sopra Ed ecco il pannello che ospiterà il mixer Ora ovviamente non vedete nulla Perché lo scopriremo nelle prossime lezioni Dobbiamo andare nella modalità multitraccia Per poter lavorare con il mixer Ma ne parleremo più avanti Per adesso mi fermo qui L'appuntamento è per la prossima lezione Dove inizieremo appunto a vedere la differenza che c'è Tra il lavorare con una singola traccia Quindi con un singolo file E invece lavorare con un multitraccia Quindi per poter mixare effettivamente l'audio L'appuntamento è al prossimo video tutorial Abbonatevi, abbonatevi O iscrivetevi a questo canale YouTube se vi fa piacere Ciao